Nel 2022 il Barletta sul campo è una sentenza, 6 vittorie su 6 in campionato, 7 punti di vantaggio sul Corato secondo in classifica, il tutto a 5 giornate dal termine della regular season nel girone A di eccellenza pugliese. Il traguardo sembra sempre più vicino dopo il netto 5-1 di domenica scorsa al San Sabino contro l'Atletico Vieste, ma l'allenatore bianco-rosso Francesco Farina predica calma. Rilassamento, noi facciamo questo per lavoro, quindi non ci si rilassa mai anche perché comunque anche se si vince il campionato qua non si è vinto niente, quindi bisogna preparare subito la finalissima, quindi non ci si può rilassare perché se ti rilassi poi non entri in campo in finale, quindi noi dobbiamo, io ho sempre detto di guardare a noi stesso, io non vorrei sbagliare, ma siamo tra la prima e la seconda squadra in Italia come media punti. Le vittorie nel nuovo anno solare sarebbero 7 sicuramente includendo anche il 2-1 al Martina nel ritorno della finale regionale di Coppa Italia di Lettanti dopo lo 0-0 dell'andata al Tursi. Il successo sul team allenato da Massimo Pizzulli è valso l'approdo alla fase nazionale della competizione che il Barletta inaugurerà mercoledì 9 marzo alle 14.30 a Canosa, ospitando il San Marzano, formazione oggi al secondo posto del girone C di eccellenza Campana che completa il mini girone in cui i Rossi sono inclusi con il Melfi. Noi non solo siamo stati svantaggiati a giocare la prima, ma giochiamo anche in casa, quindi noi abbiamo un solo risultato la vittoria per regolamento, per esperienza mia di triangolare, se noi non vinciamo la prima siamo fuori al 99%, quindi purtroppo ci è capitato questo sorteggio malvagio, io avrei preferito affrontare il San Marzano fuori casa per avere il doppio risultato, ma abbiamo un solo risultato, anche in Coppa dobbiamo vincere per forza, qua quest'anno siamo condannati a vincere. Vincere come unica opzione allora, contro il San Marzano il Barletta dovrà fare a meno dello squalificato vicedomini, possibile chance dal primo a centrocampo per uno tra Mirelle e Viscovic, assenze pesanti tra gli over anche in casa San Marzano, out per la sfida di Canosa, Chiariello, Lettieri e Marotta.